Corso di Digital Storytelling, il Malaffarina di Soverato, a tutto Erasmus+. Claudio Cherubino, Sandra Macrina e Savina Moniaci, responsabili rispettivamente dell'implementazione delle abilità tecniche linguistiche e del coordinamento dello staff Erasmus dell'Istituto Malaffarina di Soverato, diretto dal professore Saverio Candelieri, nell'ambito della seconda annualità dell'accreditamento settore scuola, hanno frequentato dal 16 al 20 gennaio un corso funzionale alla realizzazione dei prodotti di disseminazione del programma Erasmus+. Il corso di Digital Storytelling, tenutosi a Guadalope, nel paradisiaco arcipelago delle Antille francesi dei Caraibi, da professionisti del settore come Jimmy Cancel, Jude Gustave e Jonathan Drauma, ha visto la presenza di docenti e dirigenti scolastici provenienti dalla Lituania, dal Belgio, dalla Germania e dalla Finlandia, desiderosi di migliorare le proprie competenze digitali e apprendere come utilizzare il Digital Storytelling per coinvolgere gli studenti secondo l'appoggio del Project Based Learning. Il corso avviatosi con l'analisi del background teorico si è poi orientato sull'uso pratico della narrazione digitale, nonché sulle opportunità di creare risorse per l'insegnamento e l'apprendimento. La metodologia attuata attraverso workshop per l'uso pratico dei diversi software di narrazione digitale si è focalizzata su una cura sistematica dei contenuti e della forma, consentendo ai partecipanti non solo di migliorare le proprie competenze digitali, ma anche di sviluppare capacità di comunicazione, collaborazione, presentazione, negoziazione, pensiero critico e creativo. Il corso ha altresì permesso ai partecipanti di migliorare la comprensione del potenziale che la narrazione e la costruzione narrativa hanno nell'istruzione. La padronanza degli strumenti virtuali è stata inoltre applicata alle piattaforme di collaborazione online per la preparazione, la diffusione e il collegamento in rete, al fine di sviluppare futuri partenariati e progetti all'interno dell'European School Education Platform che combina le funzionalità di eTwinning ed Education Gateway.